Buongiorno, siamo qui con il dottor Armando De Rosa, presidente della Proloco di Villa Ricca, e con il dottor Tommaso Di Nardo. Sono i pilastri dell'associazione e da circa 30 anni fanno associazionismo nell'area nord di Napoli, che è un territorio alquanto difficile. Dottor De Rosa, cosa vuol dire fare promozione del territorio in questo territorio? È una cosa bellissima, perché in effetti si può favorire quello che poi è uno sviluppo del territorio, si può ritornare alle radici, si può investire sui giovani, si possono fare tante cose belle. Questo sodalizio, nato nel 1985, ha iniziato subito con tantissime attività. È sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto nella storia di questo paese, ma anche della regione, l'aver costruito tante e tante cose belle. Grazie anche a Tommaso Di Nardo, che intercettato 20 anni fa, quando noi promuovemmo l'iniziativa in omaggio a Sergio Bruno, lui era assessore all'attività produttiva. Quindi non solo Sergio Bruno, molti mettono la mia persona insieme a Sergio Bruno, ma grazie anche all'impegno e all'attitudine dell'amico Tommaso Di Nardo, abbiamo costruito veramente delle pagine di storia. Lui ha fatto l'assessore all'attività produttiva e in quella veste abbiamo fatto delle cose bellissime per valorizzare il territorio. Tommaso Di Nardo è un economista, un economista che vanta collaborazioni nazionali ed internazionali con grandi economisti. Come si sposa la professione con quello che è poi l'obiettivo della Proloco? Allora, dunque, io quando ho incontrato Armando De Rosa, il presidente della Proloco di Villaricca, ero assessore comunale e mi occupavo di sviluppo del territorio. Ero assessore alle attività produttive, ma avevo, come dire, alcuni importanti dossier che riguardavano proprio i programmi di sviluppo del territorio, come il piano integrato territoriale, il piano di recupero urbano di Villaricca. E ricordo molto bene che l'incontro avvenne perché noi avevamo un programma di promozione dei prodotti tipici locali di Villaricca, l'antica Panicocoli, e non poteva non esserci questo incontro con la Proloco che ha proprio questa grande funzione, questo grande ruolo di promuovere le tipicità locali, il turismo, la cultura. E mi ricordo che fu un bellissimo incontro perché realizzammo una bellissima manifestazione a Napoli, alla Mostra dell'Oltremare, nell'ambito di Pianeta Italia. Quella era la prima volta che noi partecipavamo, poi ci fu anche un'edizione successiva, e fu davvero un momento straordinario perché avevamo uno stand di grosse dimensioni e lo riempimmo, diciamo, di tutte le tipicità, dal pane ai fagioli alla melanurca. Da lì nacque, diciamo, una collaborazione molto intensa, molto profonda, che poi ha coinvolto tutto il tema Sergio Bruni, il tema della canzone napoletana, eccetera. L'incontro tra economia, sviluppo del territorio e Proloco, nel suo ruolo di promozione delle tipicità, della storia, dell'identità, della cultura, nei territori provinciali dell'Interland, in quelli che poi sono considerati gli antichi casali di Napoli, è un qualcosa di fondamentale oggi, soprattutto per recuperare la dimensione identitaria locale e incardinarla nell'ambito della globalizzazione. Siamo ai saluti, siamo ai saluti finali, una battuta. Questa attività davvero è bella, arricchente, emozionante e quindi sicuramente, compatibilmente con i vari impegni, proseguirà anche nei prossimi anni. Auguri! Saluto i telespettatori e invito tutti a visionare il sito della Proloco www.prolocovillaricca.it dove troverete tutte queste belle cose che abbiamo raccontato.